La palla a volo funziona più o meno così. Uno riceve la palla, un altro l'alza e poi un altro la schiaccia. Il mondiale sarà simile. Noi riceveremo una sfida, voi alzerete la voce e poi schiacceremo gli avversari. Sì vabbè è un po' meno. Forse sì dai. Diciamo che proveremo a far bene e cercheremo di fare del nostro meglio. Noi del Team Young Unipol Sai saremo presenti e voi non mancate.